Qui costruiamo l'immagine della Madonna che è venerata come protettrice dei pescatori. Questa tradizione è stata ripresa da noi, allora giovani ragazzi, creando quella che è una forma di paranza, che chiamiamo la paranza dei portatori. La Madonna è stata ripresa da noi, allora giovani ragazzi, creando quella che è venerata come protettrice dei pescatori. La Madonna è stata ripresa da noi, allora giovani ragazzi, creando quella che è venerata come protettrice dei pescatori. Grazie a tutti.